Il Comune di Pescara sarà capofila di un progetto europeo al quale aderiscono anche i comuni di Chieti, Francavilla, San Giovanni e Teatino. Progetto che consentirà di aiutare gli immigrati a trovare alloggi in base alle loro esigenze familiari. Un progetto che viene realizzato grazie alla collaborazione dell'Associazione Architettura Senza Frontiere Abruzzo Onlus e dei mediatori culturali che operano sul territorio. A coordinare il progetto l'assessore Isabella Del Trecco. Abbiamo partecipato a questo bando che abbiamo vinto. Insieme a noi ci sono diverse associazioni sociali e donne immigrate perché è un progetto che mira principalmente ad aiutare quelle persone regolari che sono sul territorio però immigrate a cercare casa. Valeria Sciarretta rappresenta Architettura Senza Frontiere Abruzzo Onlus. Lei stava spiegando gli aspetti tecnici di questa attività sul territorio. Come sarà esercitata lo sportello o anzi gli sportelli cosa faranno? Allora innanzitutto faranno un'attività di front office. Accoglieranno l'immigrato, spiegheranno le informazioni relative alle possibilità di affittare una casa, un posto letto o cosa c'è disponibile a seconda delle loro richieste, a seconda di quante persone sono, di quanti posti letto necessitano. In caso di necessità l'immigrato potrà contare anche sull'aiuto di interpreti o di altre consulenze come quella legale per poter giungere più agevolmente alla felice conclusione della trattativa. A livello di back office invece verrà fatta una consulenza online direttamente all'immigrato per via telematica. Per chiarire non c'entra nulla con le case popolari. Non si parla di assegnazione, si parla di un aiuto a trovare un'allocazione, anche privata, però insieme, in collaborazione anche con le varie agenzie che sono sul territorio.